Grazie a tutti. Sarà poi Piazza Ceriana. Alle 15 partenza dei carri e dei gruppi in maschera dal Don Bosco fino appunto in Piazza Ceriana dove si terranno le sfide della pasta asciutta e della pizza, la battaglia di farina e coriandoli e la premiazione delle maschere. Entra nel vivo anche l'appuntamento con il carnevale folcloristico della Lachera di Rocca Grimalda. Il gruppo ospite protagonista della giornata di domani proviene dal Galles e sono i Widers, movimentato allegro e trasgressivo ensemble di musicisti, che eseguiranno durante la sfilata di domani le loro danze accompagnate da organetti, violini e tamuri. I loro costumi nero-blui, visi colorati di nero fumo e riccamente agghindati con piume porteranno una ventata di mistero con musiche legate alla tradizione, ma assolutamente moderne per ritmi e coinvolgimento. A corollario del gruppo straniero, l'orchestrina della Crica accompagnata dalla compagnia d'animazione popolare La Girandola, che si esibiranno in musiche e danze della tradizione popolare piemontese. Ad Aquiterm, sempre domani tradizionale Mercatino degli Sgaglientò, appuntamento mensile dedicato all'antiquariato, numerose bancarelle di artigianato, cose vecchie usate e collezionismo animeranno, come ogni quarta domenica dell'anno, le piazze conciliazione e sanguido. Parteciperanno al mercatino circa 100-130 espositori, obbisti o ambulanti, variamente divisi e provenienti da ogni parte del Piemonte, della Liguria, della Lombardia e della Toscana. Il nome deriva dal termine dialettale usato per indicare gli acquesi scottati da una delle attrattive della città, la fonte di acqua calda detta La Bollente. Al Teatro Municipale di Casale, alle 16, il musical Lello Dolly di Michael Stewart e Jerry Herman, reso celebre da Barbara Streisand e presentato dalla compagnia di Corrado Abbati. Questa nuova produzione prende spunto dalla simpatia e dall'esuberanza straripante sia del testo che della musica, trasponendo il tutto in un'epoca spavalda e carica di sogni, in anni scatenati e segnati dalla forte impronta dell'alta moda, da un'esuberante voglia di vivere, da una fantasia e un'allegria contagiosi. L'intreprendente protagonista darà vita a spassosi equivoci, sorprendenti colpi di scena e romantiche parentesi sentimentali. Infine, alle 21.15, al Teatro Civico di Tortona, la 32esima stagione concertistica degli Amici della Musica prosegue con il concerto del quartetto d'Archi Aurin. Il gruppo sarà accompagnato dal pianista Peter Hort e suonerà music di Mozart, Aydne e Frank. Maggiori informazioni allo 0131820195. E dall'Alessandrino e provincia così è tutto. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e la linea va allo studio.